Una buona giornata, volevo chiedere il vostro aiuto rispetto a un problema che mi sono posto in questi tempi e che riguarda la nostra responsabilità nei confronti sia del lavoro, sia di quello che facciamo e che siamo tenuti a fare, sia la nostra responsabilità individuale nel senso di evitare di essere contagiati e di contagiare a nostra volta. E ovviamente è un problema che si pone in questi tempi, insomma, che in altri momenti non si porrebbe. Abbiamo accertato che le misure prevedono, almeno qui nel Veneto da dove parlo, prevedono la chiusura delle scuole, temporanea, insomma, c'è stata fatta una proroga, no, della chiusura delle scuole. Cosa che non prevede però, per esempio, almeno credo, insomma, il venir meno delle riunioni scolastiche di queste altre cose, insomma, per cui gli insegnanti o il personale saranno tenuti comunque a presentarsi almeno in alcuni giorni per attività di aggiornamento, per attività varie all'interno delle scuole. Ma allora mi chiedo, anche in vista che le scuole riapriranno, insomma, però in considerazione che siamo in una fase di evoluzione dell'epidemia, nel senso che i casi stanno aumentando in maniera molto importante, insomma, no, io sto tenendo il grafico dell'andamento giornaliero, insomma, e si vede una curva salire molto drammaticamente. Allora, io ci vedo in questo ancora un conflitto, per esempio, gli insegnanti, prendiamo una categoria, ma è una categoria che riguarda un milione di persone, per esempio, saranno tenuti o sono tenuti comunque a riunirsi all'interno delle scuole, e sono persone che vivono in famiglie normalmente, quindi hanno a che fare spesso con bambini e anche con persone anziane. Per esempio, all'interno della scuola è molto probabile, insomma, che ci sia una possibile diffusione del virus. La scuola è uno dei luoghi dove il virus che ci interessa in questo momento si può più facilmente diffondere, e dove chi dovesse essere contagiato poi, come dire, lo può a sua volta ritrasmettere. Allora qua noi abbiamo posizioni diverse, mi pare che siamo liberi di avere posizioni diverse. C'è chi vuole correre il rischio e quindi deve accettare il fatto di andare a lavorare, insomma, no? Perché ha bisogno anche di lavorare, perché lo vede come una necessità. C'è chi invece questo ricchio non vorrebbe prenderselo e che sarebbe disposto magari a rinunciare allo stipendio, ma non giocarsi ovviamente il posto di lavoro, insomma, in queste fasi. e quindi vorrebbe stare a casa in modo da salvaguardarsi per quanto è possibile, ma non correre il rischio di essere contagiato e di contagiare a sua volta altre persone, familiari soprattutto, no? Quindi si pone un dilemma, insomma. Andare a scuola, una volta che le scuole si apriranno, se si riapriranno, non sappiamo, bisognerà vedere qual è l'andamento dell'epidemia, naturalmente, o comunque partecipare alle iniziative che la scuola farà comunque, insomma, in questo periodo, nonostante che i bambini non vadano a scuola. oppure se uno può essere libero di cercare di salvaguardare come può la propria salute a secondo il suo modo di pensare, insomma, no? È da rispettare chi vuole evitare il più possibile le fonti di contagio come è da rispettare, secondo me, chi preferisce mettere in gioco la sua salute e continuare il suo lavoro. Certo, per esempio, per i medici questo discorso sarebbe difficile da fare, no? Voglio dire, il medico ha una responsabilità nei confronti della salute pubblica per cui deve essere disposto a mettere in gioco anche la propria salute. Ma per gli insegnanti, per esempio, non è proprio così, no? Le riunioni potrebbero essere fatte, per esempio, da casa, attraverso internet. Si potrebbe prorogare la chiusura delle scuole e magari utilizzare, che so io, il periodo estivo per recuperare il tempo che si perde adesso, sempre nel caso che in estate la cosa sia passata. Quindi ci sono delle altre soluzioni possibili. Allora, quello che mi chiedo è quanto si può costringere uno a mettere a rischio la propria salute nel momento in cui non voglia farlo e ritenga che questo per lui sia mettere a rischio la propria salute, insomma, e mi riferisco all'insegnante. E quanto invece questo sia libero, o possa essere libero di scegliere, tra il fatto di non ricevere lo stipendio, insomma, di stare a casa senza stipendio, però salvaguardando la propria salute e anche quella dei familiari che metterebbe a rischio nel caso lui si contagiasse. È una situazione nuova, mi rendo conto, no? Perché forse non si era mai posta prima con questa evidenza. Però mi pare che ci sia un conflitto tra due possibili libertà, no? Si esalta da parte delle misure che si sono prese questa necessità dell'individuo di salvaguardare la propria salute e anche quella degli altri, quindi di rimanere il più possibile lontani da contatti attraverso i quali si può trasmettere più facilmente il virus. Dall'altra abbiamo visto che si vorrebbe far ritornare tutto alla normalità, soprattutto nel campo del lavoro, però i dati di fatto ci dicono che la situazione, se la vogliamo esaminare obiettivamente, non è in un momento in cui sta ritornando alla normalità, è in una fase in cui si sta allargando l'epidemia, in questo momento anche in tutta l'Europa, e comincia ad allargarsi anche negli Stati Uniti. Secondo voi, insomma, è un quesito che io mi pongo, insomma. Sarebbe giusto che, e facciamo il caso dell'insegnante, poi magari potrebbe essere stesso anche ad altri casi, sarebbe giusto che uno possa essere libero di scegliere tra il fatto di rimanere a casa senza stipendio, però senza mettere in gioco il proprio posto di lavoro. O quello di andare a lavorare nel momento in cui questo necessiti, accettando il rischio di ammalare in cambio dello stipendio che gli viene garantito, insomma. Comunque di lasciare questa libertà, diciamo, all'individuo di fare una scelta. Lo si può costringere contro la propria volontà, contro il proprio modo di pensare, che magari potrebbe essere anche sbagliato, potrebbe non correre nessun pericolo, ma, insomma, lui pensa di correrlo, e se lo pensa di correrlo, magari non è proprio un esaltato, insomma, no? È giusto lasciargli questa libertà? Il dilemma è questo, rimanere a casa senza stipendio, ma conservare il posto di lavoro, oppure essere comunque costretto ad andare contro volontà a un lavoro che non è però essenziale, come quello del medico, insomma, no? Per garantire la salute pubblica, e quindi per tenere aperti gli ospedali, e così via, insomma, no? E quindi mettere a rischio la propria salute per adempie, insomma, ad un dovere lavorativo, che in tempi normali sarebbe giusto fare, insomma, ovviamente, ma in questi tempi eccezionali dovrebbe essere prevista una deroga, secondo me, insomma, da questo obbligo. Cosa ne pensate voi? Un saluto.